Covid prosegue l'aumento dei contagi anche nell'Ettiguglio. Il bollettino diffuso oggi da Regione Liguria registra un decesso, quello di una donna di 77 anni avvenuto sabato scorso all'ospedale di Sestri. Sono 50 invece nuovi casi di persone positive al Covid nella riviera di Levante dove i ricoveri sono 24, uno in meno di ieri, 22 a Sestri e due a Lavagna, uno dei quali in terapia intensiva, sempre in Nasr 4. Infine le sorveglianze attive sono 850. Intanto il prezzo delle mascherine FP2 verrà calmierato. Il prezzo fissato è di 70 centesimi di euro per ogni mascherina. Le adesioni saranno sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria come si era fatto con le mascherine chirurgiche ad inizio pandemia. Il bollettino diffuso oggi da Regione Liguria registra un decesso, quello di una donna di 77 anni avvenuto sabato scorso all'ospedale di Sestri Levante. Sono invece 50 i nuovi casi di persone positive al Covid-19 nel Tiguglio dove i ricoveri sono 24, uno in meno di ieri, 22 all'ospedale di Sestri Levante e due al nosocomio di Lavagna, uno dei quali in terapia intensiva. Sempre in Nasr 4. Infine le sorveglianze attive sono 850. In totale in Liguria oggi sono 815. Invece i nuovi positivi al coronavirus su un totale di 3.298 tamponi molecolari processati. Vengono segnalati anche 5 nuovi decessi. Le guarigioni sono 400. Il totale degli attualmente positivi sale così a 20.142. I ricoveri nella nostra regione sono 578, 21 in più di ieri con 46 pazienti in terapia intensiva, 33 dei quali non vaccinati. Il comune di Sestri Levante ha ottenuto complessivamente 4.700.000 euro di finanziamenti dal Piano Nazionale di Ripese e Resilienza, grazie ai progetti redati dagli uffici tecnici comunali. 3.800.000 euro saranno destinati alla risistemazione della passeggiata a mare di Levante della frazione di Riva, quale proseguimento della passeggiata di Ponente che porterà quindi al totale completamento del fronte mare, andando ad aggiungersi ai 4 milioni di euro di interventi che sono già stati portati a termine. 430.000 euro alla riqualificazione di Parco Serlupi, 240.000 euro alla risistemazione del centro storico di Loto, 230.000 euro invece alla sistemazione della pavimentazione storica di Via delle Ducandato, primo stralcio di un progetto più ampio che riguarda l'intera penisola di Sestri e che mira all'uniformazione delle pavimentazioni esistenti tramite la ristrutturazione della scalinata in acciottolato e una pavimentazione carrabile nel tratto pianeggiante. Nuova scoperta archeologica in Fontana Buona, una seconda cisterna dell'acqua infatti è stata scoperta tra i resti del castello Feschi di Rocca Tagliata, Nerone. A scoprirlo Stefano Privitera, volontario del CAI di Chiavari. La funzione del castello era soprattutto di controllo della viabilità da cui infatti passava la strada che da Montebruni in Val Trebbia risaliva a barba gelata e scendeva a Rocca Tagliata. Per unirsi nelle vicinanze di Nerone all'altro importante percorso proveniente da Torriglia e da Siestri, la località citata da Dante, nel quattordicesimo canto del Purgatorio, sostiene lo storico della valle Renato Lago Marsino. Non viene escluso che il castello abbia avuto un determinato periodo anche una funzione di carattere abitativo e signorile. Nel corso degli scavi archeologici, conclude ancora Lago Marsino, è stato infatti rinvenuto un frammento di ceramica di origine orientale. Anche quest'anno il comune di Santa Margherita Ligore mette a disposizione un contributo di 25 mila euro per incentivare i proprietari nella manutenzione dei tratti di muro d'agene, di rivi e fossati delle zone collinari e dei muri confinanti con strade creuse pubbliche vicinali a uso pubblico. Con questo contributo l'amministrazione comunale intende incentivare i privati a mantenere i muri d'agene e quelli confinanti con via uso pubblico in buone condizioni di stabilità, così da ridurre le cause potenziali di rischio idrogeologico. L'importo di 25 mila euro stanziato dal comune viene messo a disposizione dei cittadini che ne faranno richiesta sino ad esaurimento della somma complessiva stanziata e sulla base del rigoroso criterio cronologico di protocollocazione delle domande. Qualora questo risultasse in numero maggiore rispetto alle somme messe a disposizione verrà data a precedenza a chi avesse già eventualmente presentato domanda per l'analogo bando approvato nel dicembre del 2020 e fosse rimasto escluso dall'assegnazione del contributo. Importi verranno successivamente erogati dal comune di Santa Margherita Ligure a chi avrà regolarmente effettuato gli interventi di manutenzione e ripristino entro il 31 dicembre del 2022 previo sopra un luogo dell'ufficio tecnico comunale che ne attesti la consistenza e l'avvenuta realizzazione a regola date. Non potrà comunque essere liquidato un importo superiore al 60 per cento della spesa sostenuta come risultante dalle relative fatture. L'anno scorso abbiamo lanciato quasi sperimentalmente questo strumento e i risultati ci dicono che è stata una buona iniziativa, ha detto il vice sindaco di Santa Margherita Ligure Emanuele Cozio con delega alla protezione civile. La sinergia tra amministrazione comunale e proprietaria è fondamentale per tornare a mantenere il nostro territorio come ci hanno insegnato i nostri anziani e quindi poter intervenire in quelle aree dove piccoli rigagnoli d'acqua devono avere la loro funzione naturale ed essere salvaguardati per far sì che non si ripercuota a valle un potenziale pericolo. Non si placano ancora le polemiche a Chiavari dopo l'ultimo consiglio comunale di fine anno, quello per intenderci, riconvocato dopo che in prima seduta il bilancio era stato votato senza il numero legale. I consiglieri comunali di minoranza, Lino Cama, Silvia Garibaldi, Daniela Colombo, Sandro Garibaldi e Giovanni Giardini, che fanno sapere di devolvere all'Anfas il gettone di presenza del consiglio bis, criticano nuovamente il presidente del consiglio comunale di Chiavari, Antonio Segalebba. Non ha chiamato al voto il consigliere Sandro Garibaldi nella seduta del 20 dicembre, dice l'opposizione in coro, mentre il 30 dicembre il segretario generale non era presente e non è stato indicato dal presidente chi ne facesse le veci. Nella seconda seduta, rivela poi Giardini, nelle voci di investimenti del bilancio preventivo, l'assessore comunale Alessandra Ferrara non ha citato piazza Nostra Signora dell'Oto, indicata il 20 dicembre con bando mai pronto. Dopo che è stata diffusa la notizia dell'ostruzione del canale idrico sotto la stessa piazza, Giardini si domanda se il progetto procederà o meno. Il comune di Lavagna ha messo all'asta alcuni beni di cui è proprietario. Si tratta di tre posti auto nella frazione di RNL con valore a base d'asta compreso tra 18.000 e 23.000 euro di alcuni terreni in via La Loggia e località Crocetta con valore compreso tra i 17.000 e i 26.000 euro di un terreno in località Murcia del valore di 23.000 euro dell'ex scuola di Solana, di un appartamento a Santa Giulia e di un box ancora nella frazione collinare di Lavagna. Per questi tre fabbricati il valore a base d'asta è rispettivamente di 98.000, 196.000 e 33.000 euro. Per queste aste si può presentare domanda fino alle ore 12 dell'8 febbraio. C'è tempo invece fino alle ore 12 del 22 febbraio per partecipare alle aste relative ad un appartamento di via Caffaro a Genova del valore stimato di 120.000 euro e all'ex scuola elementare della frazione di Cavi dalla cui vendita il comune di Lavagna ha auspica di ricavare almeno un milione e mezzo di euro. Continuano sempre le video ispezioni sui canali delle acque meteoriche. Ora siamo qui in piazza della Madonna dell'Orto dove passa un canale primario che passa poi sotto la stazione e va a finire poi nel porto. Qui abbiamo riscontrato una grossa problematica proprio prima del nuovo sagrato sulla linea di via del Casaretto. Qui dovremo intervenire appena dopo le feste che siamo già in accordo con Irene per rimuovere questa occlusione quasi totale di questo canale che grava su via Rivarola essendo un punto basso. Confidiamo di poter intervenire all'estremità del nuovo sagrato per poter rimuovere queste occlusioni importanti senza dover tirare sulla nuova pavimentazione. Questo è un lavoro sicuramente molto difficoltoso. Abbiamo, ripeto, parlato già con i tech di Cire e cerchiamo di provvedere il prima possibile anche a questo intervento molto importante per la città e il centro storico. Pennelli a difesa dell'abitato. Lavori al parcheggio dello stadio comunale. Inaugurazione campetto di Caperana. Sotto servizi Piazza Nostra Signora dell'Orto. Sono stati appaltati i lavori per la costruzione dei primi pennelli a protezione del fronte mare della città di Chiavari, alla ditta Adormare SRL per un importo totale di circa 9 milioni. Il progetto definitivo, che verrà esaminato sotto posta verifica degli uffici comunali nei prossimi 90 giorni riguardante il primo lotto di lavoro, prevede la realizzazione di pennelli perpendicolari alla costa a partire dal torrente Rupinaro fino all'altezza del Nelson. Un intervento che, oltre a migliorare la difesa dell'abitato, contribuirà alla mitigazione del rischio idraulico del torrente Rupinaro e permetterà di ottenere spiagge lunghe fino a 50 metri, garantendo così nuovi spazi per la balneazione e nuove aree riqualificate a disposizione dei cittadini e dei turisti. La Giunta ha approvato il progetto di manutenzione straordinaria e di drenaggio del parcheggio di Via Gastaldi accanto al campo sportivo per un importo totale di 75 mila euro, di cui 30 mila di un contributo della Virtus Entella. Nei mesi scorsi è stato siglato un contratto di comodato d'uso gratuito con la proprietà di 6 anni e rinnovabile per provvedere ai lavori di ripristino del fondo sterrato del parcheggio. Nello specifico si provvederà alla realizzazione di un impianto di drenaggio che consenta lo smaltimento dell'acqua piovana, evitando così situazioni di ristagno e di allagamento. Le operazioni precederanno con la rimozione del terreno attualmente infangato, lo spianamento e il livellamento dell'aria e l'installazione di nuove tubazioni e pozzetti per consentire il deflusso dell'acqua. A conclusione dei lavori, la copertura del terreno con pietrisco ripulito e compattato, con opportune operazioni di rullatura. È stato inaugurato il nuovo campetto polifunzionale di Caperana, in via Parma, all'altezza del campo sportivo Daneri. L'area sarà aperta tutti i giorni, in inverno, dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 19, mentre in estate dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 21. Un complesso di lavori che hanno interessato la totale riqualificazione dell'area verde e la realizzazione di un campetto da basket e calcio 22x13, con annesse, porte e canestri. Allo stesso tempo è stato sistemato il marciapiede all'ingresso e creato una specifica rampa per l'accesso. Installato un sistema di canalizzazione delle acque piovane, predisposto all'impianto per l'illuminazione pubblica e posizionate 6 nuove panchine. Il quartiere di Caperana potrà così usufruire di un nuovo spazio per il tempo libero, dove adulti e bambini potranno fare sport e trascorrere tempo in sicurezza. Lavori di monitoraggio e verifica dello stato dei sottoservizi cittadini, dove sono state rinvenute negli anni numerose occlusioni delle condotte, che ostacolavano e impedivano il corretto deflusso delle acque meteoriche, specialmente durante eventi meteo importanti. In seguito alle videoispezioni realizzate insieme ai tecnici IREN, è stata riscontrata un'oclusione all'altezza del nuovo sagrato della cattedrale di Piazza Nostra Signora dell'Orto, all'incrocio con via Vinelli. La condizione attuale provoca il sovraccarico dei condotti di Piazza Mazzini, via Rivarola e via delle Vecchie Mura, causando allagamenti. Si dovrà necessariamente intervenire per rimuovere il materiale in eccesso, con l'obiettivo di mitigare il rischio idraulico.